cammina a lenti passi barcollando riprende e poi si ferma la sua testa è confusa non c'è disperazione non c'è calma non c'è gioia non è rilassato non ci sono sentimenti in un corpo vuoto che non ha anima ma che incede sulla via e non si ferma non parla con nessuno e non ha amici nemmeno se stesso ha perduto ogni senso di ciò che può essere l'individuo di ciò che può pensare della propria vita della vita degli altri di ciò che ogni uomo sente di avere in prospettiva nell'immediato e guardarsi nel passato e riprende la sua camminata stracca le sue ginocchia pencolano le sue caviglie assento riescono a rimettere insieme le gambe la testa assente gli occhi vitri ma guarda intensamente come uno spettro guarda il senso del non senso la vita dove non c'è il fragore del tuono senza suono la pioggia senza acqua ed è questo che egli è il nulla andiamo andiamo Grazie a tutti.